Romagna mia, Romagna è il fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alta solare. Sulla notte della nostra sigla di apertura vi do il benvenuto anche oggi per questa nuova giornata da passare insieme. Cari amici di Romagna Mia, vi diamo il benvenuto all'interno dei nostri studi delle edizioni musicali Casa Dei Sonora qui Romagna. Allora permettetemi di ricordare che questo programma è un prodotto delle edizioni musicali Casa Dei Sonora. Ringrazio tutte le emittenti che fanno parte del circuito 100 TV e per sapere qual è l'emittente della vostra zona basta andare sul nostro sito cliccando www.casadeisonora.it e trovate tutto l'elenco dettagliato delle emittenti che fanno parte della nostra famiglia ovviamente con i canali di messa in onda, gli orari e quant'altro. Se avete qualche dubbio potete fare riferimento al nostro numero di telefono allo 0541 945259. Andiamo anche a ringraziare Darder in Multimedia per la cura che ha giorno dopo giorno delle nostre puntate. Allora andiamo anche nel vivo della nostra giornata di oggi col proporvi quello che sarà la prima parte della nostra giornata dove vede i protagonisti i ballerini. In questo caso tratto dalla serata di ballet ballet di qualche anno fa di Sant'Arcangelo di Romagna, un weekend veramente dedicato alle migliori scuole di ballo. In questo caso troviamo la scuola delle sirene danzanti dei maestri Sandra e Mirko Ermeti. Subito dopo troviamo l'innovazione e come sempre tradizione e innovazione con gli extra liscio. Per ora è tutto, vi lascio con questi due videoclip, buon divertimento, buon ballo e noi ci ritroviamo a tra pochissimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Onda del mar nel silenzio che cammina e la notte cade prima e mai più ritornerà, non tornerà, non tornerà. Vicino a te nel silenzio che si rompe come all'onda nelle sponde si frattuma e se ne va e non tornerà, non tornerà. E nella notte del silenzio cade prima la tua voce che cammina e mai più ritornerà, non tornerà. Quel riflesso che si accende come l'onda che si perde, non tornerà. In mezzo al mar c'è una lampada d'argento, una sirena sotto vento che si perde e se ne andrà e non tornerà, non tornerà. E nella notte una luce si avvicina come un'onda di rodina e mai più ritornerà, non tornerà. Questo treno movimento che si perde il mare aperto, non tornerà. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS E nella notte Nel silenzio cade prima La tua voce che cammina E mai più ritornerà Non tornerà Questo strano movimento Che si perde in mare aperto Non tornerà Non tornerà Non tornerà Non tornerà Non tornerà Chiudiamo questa nostra giornata La grandissima perché vedo in scaletta Un brano tratto dalla serata Una delle serate eventi Forse più importante Dal Ravenna Festival Questa serata veramente è stata importantissima Ci ha regalato tante emozioni Sono certa che ve le regaleremo anche oggi Proponendovi un videotratto da quella serata Appunto che si titola Fortuna Dove vede protagonista il gruppo grande evento Con Moreno Conficconi E due ospiti d'eccezione Due grandissimi jazzisti A livello internazionale Gianluigi Trovesi E Gianni Coscia Concludo così Regalandovi questo ultimo videoclip Grandi emozioni Che vivremo insieme E ovviamente vi aspetto domani Per viverne delle nuove Insieme ad altri artisti E ad altri ballerini Per ora è tutto Vi saluto e vi lascio su queste note Bacio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti